Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Oggi è giovedì 22 ottobre, sono nella mia pausa pranzo e voglio approfittare qualche minuto per completare il video messaggio che ho pubblicato ieri sul buonismo cristiano e l'amore cristiano. Credo che meriti una seconda parte, sarà breve, ma credo che sia necessario affrontarla perché il messaggio che ho trasmesso ieri, a parte che con quell'argomento lì intendevo parlare dell'importanza della verità, però quando ho toccato l'argomento del perdono è probabile che qualcuno lo abbia interpretato male, cioè quando ho detto che dobbiamo perdonare alla condizione che colui che ha peccato contro di noi venga a chiederci perdono, cioè che si penta e chiede perdono, ecco quando ho detto questo probabilmente qualcuno ha recepito un messaggio di questo tipo. Allora se non mi vengono a chiedere perdono cosa devo fare? Devo conservare il rancore nel cuore? Devo conservare astio nel cuore nei confronti di colui che ha peccato contro di me? Ecco io vorrei rispondere a queste domande proprio per chiarire questo argomento. Allora io ieri ho detto e oggi confermo che il perdono biblico e quando diciamo così l'insegnamento biblico sul perdono è che colui che ha commesso un peccato nei nostri confronti dice la scrittura come abbiamo detto ieri se un tuo fratello pecca contro di te e si pente, viene sette volte e dice mi pento, perdonalo. Quindi significa che colui che ha commesso peccato deve riconoscere questo peccato, quindi il riconoscimento della colpa lo porta poi a venire da noi a dire sono pentito e noi in quel caso lì siamo chiamati a perdonare. Adesso la domanda che ho fatto prima era questa e la voglio rifare perché ho notato in qualche commento qualcuno che ha forse diciamo così diciamo c'è bisogno di questa spiegazione. Ecco quindi la domanda è questa se il fratello che ha peccato contro di me non viene a chiedermi perdono non si pente e quindi non viene da me dire mi pento io quale atteggiamento devo avere nei confronti di quella persona? Quale atteggiamento devo avere nel mio cuore? Devo odiarlo? Devo osservare rancore? Ecco la risposta a queste domande secondo me è molto semplice. Noi la scrittura ci esorta anzi ci comanda ad amare i nostri nemici quindi come potremmo odiare il nostro fratello che ha peccato contro di noi quindi sicuramente se un fratello ha peccato contro di me io sicuramente non devo odiarlo e non devo osservare nel mio cuore rancore perché perché quel rancore farebbe del male a me stesso. Io da cristiano ecco ascoltate bene quello che vi dico adesso e poi andiamo a prendere qualche riferimento biblico io se qualcuno pecca contro di me se qualcuno mi fa del male io da cristiano in cuore mio sono chiamato già a perdonare in cuore mio però e dopo vi spiego cosa vuol dire io sono chiamato a non osservare rancore se un fratello pecca contro di me io sono chiamato a pregare per quel fratello pregare affinché il signore gli dia la giusta luce per comprendere il peccato che ha commesso ma per ristabilire anche la sua posizione davanti a dio perché se ha peccato contro di me ha peccato anche contro dio quindi io sono chiamato a pregare affinché quel fratello abbia la trovi la consapevolezza della male fatta diciamo così quindi sicuramente se prego per quel fratello non porto odio per quel fratello non porto rancore quindi in cuor nostro noi cristiani non dobbiamo mai serbare un risentimento o un rancore perché ripeto questo diventerebbe diventerebbero delle catene per noi stessi farebbero del male a noi stessi quindi voglio rispondere a qualcuno che ha fatto qualche commento o sicuramente a qualcuno che sta facendo qualche domanda credo che questo sia fondamentale questo argomento qui e voglio proprio dirvi cosa ci insegna la scrittura il perdono parliamo di dio noi sappiamo che dio ha perdonato tutti i nostri peccati i nostri peccati sono stati già tutti perdonati alla croce come anche i peccati del nostro fratello sono stati già tutti perdonati alla croce quindi che cosa succede facciamo un esempio tra noi e dio cosa succede quando noi pecchiamo nei confronti del signore succede che si interrompe una relazione però come dicevo prima il mio peccato è già stato pagato alla croce quindi io non non va non va non va essere intaccata la posizione davanti a dio ma la relazione quindi cosa succede quando noi mettiamo in pratica prima giovanni capitolo 1 versetto 9 se confessiamo i nostri peccati egli è fedele giusto da purificarci e perdonarci ecco noi quando confessiamo i nostri peccati a dio cosa succede ristabiliamo la relazione ritorniamo in comunione in armonia però quel peccato che io ho commesso nei confronti di dio ai fini della salvezza ai fini della mia posizione dei figli di figlio è stato già perdonato alla croce quando io pecco contro dio si interrompe una relazione quindi torniamo adesso al nostro argomento nel rapporto tra fratelli quando un fratello pecca nei miei confronti o io nei suoi confronti cosa succede si interrompe una relazione quindi perché siamo chiamati poi ad andare dal fratello io ho peccato contro un fratello si interrompe la relazione vado dal fratello dico mi pento lui mi perdona e cosa succede si ristabilisce la relazione ma in cuor mio io devo sono chiamato già per a perdonarlo ma non tanto per fare del bene a lui per fare del bene a me stesso perché se io serbo rancore sto male quindi io caro fratello mi hai fatto del male hai peccato contro di me in cuor mio ti perdono ma attenzione riavremo di nuovo un rapporto quando tu verrai da me riconoscerai il tuo peccato ci chiariremo ecco venite a me discutiamo insieme dice il signore che bello quindi chiariremo il nostro disguido ci abbracceremo e ristabiliremo una relazione probabilmente quando qualcuno pecca nei nostri confronti o noi nei loro confronti solitamente questo atteggiamento di peccare verso qualcuno produce poi una delusione no quando qualcuno pecca nei nostri confronti ci delude e anche noi facciamo altrettanto quindi è probabile che si ristabilisce la relazione ma la fiducia la concediamo un po alla volta diciamo monitoriamo la persona o veniamo monitorati dalla persona ma questo va bene questo è anche saggio però volevo chiarire questo perché è importante vedete il figlio il prodigo vi faccio questo breve accenno che io amo tantissimo questo passo quando il padre vede il figlio da lontano la scrittura dice che il padre lo vide da lontano e gli corse incontro notate che il figlio non aveva ancora fatto la sua confessione di peccato non aveva ancora parlato col padre però il padre gli corre già incontro lì è figura di dio che va incontro all'uomo peccatore incontro al figlio che ritorna a casa il padre aveva già visto il pentimento del figlio e quindi gli corre incontro in corso lo aveva già perdonato e allora poi gli corre incontro il figlio gli confessa il peccato ristabiliscono la relazione ma in corso il padre lo aveva già perdonato la stessa cosa fa il signore con noi quando cadiamo nel peccato il signore in corso ci ha già perdonato perché perché ha pagato alla croce quel nostro peccato ma per ristabilire la relazione cosa dice che dobbiamo andare da lui se confessiamo i nostri peccati egli è fedele giusto da perdonarci e purificarci ecco che quello è un perdono relazionale non posizionale perché la perché la nostra posizione in cristo non può essere attaccata intaccata né dal peccato né dalla morte ma la relazione viene intaccata dal peccato quindi dobbiamo ristabilirla mediante la confessione mediante il pentimento ed il fratello deve fare lo stesso con noi e noi lo stesso con il fratello se il signore in corso ci ha già perdonati noi non siamo più grandi dal signore da non perdonare il fratello dobbiamo perdonarlo in cor nostro ma quel perdono che io in cuor mio dono al fratello ecco quel fratello ne beneficia nel momento in cui viene da me e si allora noi beneficiamo del perdono relazionale con dio quando andiamo da lui e gli confessiamo i peccati quindi io in cuor mio caro fratello da cristiano ti ho già perdonato ma ripeto per non mettere delle catene intorno al mio cuore quindi lo faccio anche per me nel frattempo da cristiano io prego per te fratello prego intercedo per te affinché il signore ti illumini quando il fratello viene da me e si pente allora che cosa fa beneficia di quel perdono che io avevo già in serbo per lui nel mio cuore questo deve essere il nostro atteggiamento l'ho voluto chiarire perché ieri mi sono fermato ma altrimenti anche adesso se non sintetizzo ad avanti per ore su questi argomenti ieri ho sintetizzato sulle parole di gesù dove dice se il tuo fratello pecca e viene si pente perdonalo ma perché perché biblicamente è così biblicamente è così notate che c'è c'è un'altra cosa molto molto bella no dice così l'apostolo paolo nella seconda lettera ai corinzi a capitolo 2 il versetto il capitolo 2 dai versetti 5 e 6 parla proprio di qualcuno che ha peccato no dice al versetto 5 ora se qualcuno è stato causa di tristezza egli ha rattristato non tanto me quanto in qualche misura per non esagerare tutti voi basta quel tale la punizione infrittagli dalla maggioranza quindi ora al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia rimanere oppresso da troppa tristezza qua sta parlando di qualcuno che ha commesso un peccato probabilmente si riferisce a alle cose scritte nella prima lettera ecco qualcuno che ha commesso un peccato è stato disciplinato ha subito una punizione quindi disciplina da parte della chiesa e qui paolo sta dicendo adesso basta una volta che questo qui ha riconosciuto il peccato ha riconosciuto di aver sbagliato ha chiesto perdono ecco dovete accoglierlo altrimenti quella triste altrimenti se lo emarginate ecco quella tristezza come dice dice affinché non abbia da rimanere troppo oppresso da troppa tristezza quindi qui vediamo il caso di un fratello che ha peccato è stato disciplinato è stato ripreso questa riprensione ha procurato tristezza che ha portato a ravvedimento e in quel momento lì noi siamo chiamati poi a perdonare ecco questo è un argomento che andava chiarito e ringrazio il signore per avermi dato questi pochi minuti per chiarirlo perché non deve passare il messaggio perché attenzione il rischio è grande può passare il messaggio potrebbe passare il messaggio che dice bene allora finché quel fratello non viene a chiedermi perdono io serbo nel mio cuore rancore odio indifferenza per me è morta quella persona finché non mi chiede perdono perché la nostra carne potrebbe arrivare a pensare questo e questo non è biblico perché noi dobbiamo se stiamo chiamati a pregare per i nostri nemici quanto più dobbiamo pregare per i nostri fratelli che hanno peccato contro di noi quanto più dobbiamo pregare per coloro i quali Gesù ha dato stati lavati dal sangue di Cristo quindi dobbiamo avere misericordia nel nostro cuore verso coloro che peccano nei nostri confronti ma il perdono relazionale diventa efficace quando quel fratello viene da me e riconosce di aver peccato quel riconoscimento serve come dicevo ieri a distruirci a educarci quindi quando io riconosco di aver peccato contro un fratello quel riconoscere di aver peccato mi insegna che la prossima volta devo stare più attento se io non riconosco di aver peccato la prossima volta torno a fare a fare a fare e quindi ecco volevo chiarire questo e spero che sia qualcosa che vi abbia fatto del bene perché non voglio ecco non vorrei che come diciamo quello che ho detto ieri che non ho avuto tempo di commentare ecco passasse il messaggio da dire bene io ti aspetto qui finché non vieni da me per me tu non esisti caro fratello per me sei morto per me ecco ti serbo rancore serbo risentimento no noi non dobbiamo osservare né rancore né odio né risentimento dobbiamo pregare per quel fratello e in cuor nostro per il nostro bene dobbiamo pregarlo liberarci da quel rancore che farebbe del male solo a noi quando quel fratello viene da noi ecco che noi quando lui lui si pente ci chiede perdono noi cosa facciamo prendiamo dal nostro cuore che quel perdono che è già lì che sta aspettando che il fratello venga da noi prendiamo quel perdono e glielo offriamo ecco fratello in cuor mio ti avevo già perdonato stavo aspettando soltanto che tu riconoscessi per il tuo bene che tu riconoscessi il peccato che hai fatto nei miei confronti questo è il perdono biblico e questo è quello che noi siamo chiamati a fare ho fatto un altro breve accenno riguardo al giudizio ecco perché il giudizio spero di sintetizzarlo velocemente perché il giudizio l'ho messo insieme al perdono perché quando un fratello pecca contro di noi noi solitamente siamo portati a giudicare a giudicare quel fratello piuttosto che il peccato che ha commesso quindi dobbiamo stare attenti faccio solo un breve accenno poi ne parleremo un'altra volta se dio vuole noi la scrittura il signore gesù dice nel vangelo di giovanni dice al dice che dobbiamo siamo chiamati a giudicare con giusto giudizio non dalle apparenze quindi cosa vuol dire giudicare con giusto giudizio significa che dobbiamo conoscere bene i fatti noi a volte siamo portati ad avere dei pregiudizi e il pregiudizio significa giudicare qualcuno senza avere le conoscenze approfondite sui fatti quindi rischiamo di giudicare le persone in modo sbagliato intanto dobbiamo imparare una cosa che quando noi giudichiamo perché la bibbia ci dice che noi giudicheremo il mondo giudicheremo gli angeli dei caduti l'apostolo paolo scrivendo ai corinzi non andiamo a leggere per le verità dice proprio che noi dobbiamo giudicare le cose interne quindi significa che intanto non dobbiamo impicciarci delle cose che fanno quelle del mondo che a quelli là ci pensa il signore ma nel rapporto tra fratelli siamo dobbiamo giudicare sì ma in che modo con giusto giudizio applicando prendendo gli insegnamenti biblici e attenzione non dobbiamo mai giudicare però la persona perché la persona sarà giudicata l'unico giudice che giudica le persone è dio non noi dio giudica le persone c'è un caso nella bibbia in prima corinzi 5 dove l'apostolo paolo dice che ha giudicato un peccato grave affinché quel tale sia dato in man di satana però lì è un caso dove proprio vediamo che è stato il signore a incaricare paolo di emettere quel giudizio quindi il giudizio non veniva da paolo ma da dio ecco è solo dio che giudica le persone noi siamo chiamati a giudicare i fatti il peccato ma perché perché il peccato va sempre condannato quindi quando noi quando c'è una questione di diciamo che qualcuno ha peccato o io ho peccato verso qualcuno noi dobbiamo stare attenti a non giudicare la persona dobbiamo giudicare il peccato che la persona ha fatto nei nostri confronti o il peccato che io ho fatto verso qualcun altro la persona è qualcosa è qualcuno che giudicherà dio non rivestiamoci da giudici perché non siamo noi i giudici e stiamo molto attenti perché può succedere che ecco il versetto è lo volevo leggere scusate ma nella nella diciamo così nel nell'andare avanti mi è sfuggita questa lettura perché è importante secondo me allora il passo che dicevo prima dove Gesù ci dice di giudicare con giusto giudizio e nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7 il versetto 24 nel versetto 24 il signore Gesù dice non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate secondo giustizia ecco secondo giustizia quindi applicare la giustizia di dio non la nostra non la nostra giustizia quindi giudicare il peccato commesso non la persona la persona come qualsiasi fratello sorella deve essere sarà dio è qualcosa che riguarda dio noi dobbiamo giudicare il peccato che il fratello la sorella commesso e poi accogliere questo fratello e quella sorella come dice la scrittura e stiamo molto attenti perché il giudicare gli altri spesso la nostra carne vuole si intromette dappertutto la carne sia chiaro allora cosa succede che più che giudicare con giusto con giustizia critica comincia a criticare allora il filo il confine tra il giusto giudizio e la critica è sottilissimo e noi dobbiamo stare attenti a non oltrepassarlo quando giudichiamo ricordiamoci che dobbiamo giudicare il peccato i fatti non chi l'ha commesso chi l'ha commesso è una questione tra lui e dio e dobbiamo vegliare prima di tutto su noi stessi a non fare i fenomeni perché chi pensa di stare in piedi stia attento a non cadere ecco quindi stiamo poi attenti a non scadere in un atteggiamento di critica perché quando iniziamo a criticare stiamo innalzando la nostra carne stiamo dicendo in un certo modo ecco io sono migliore di te e questo non deve assolutamente accadere quindi termino questo argomento con con quello che ho pubblicato ieri buonismo cristiano e amore cristiano dicendo che il cuor nostro siamo chiamati a perdonare e a donare quel perdono nel momento in cui il fratello viene da noi e dice mi pento e questo è qualcosa che spero sia chiaro e se dovesse ritenersi necessario un giudizio sui fatti accaduti ricordiamoci che dobbiamo giudicare il peccato quando giudichiamo il peccato noi stiamo condannando il peccato non dobbiamo mai condannare il fratello o la sorella perché se la scrittura dice che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in cristo se il fratello la sorella non li condannerà più il signore chi siamo noi per condannarli noi dobbiamo giudicare ripeto il peccato e lo scopo quale deve essere non quello di innalzarci al di sopra del fratello ma quello di fare esperienza prima di tutto noi a stare attenti a non commettere lo stesso errore che commesso il fratello e poi lo scopo è quello di tirare fuori il fratello da quel peccato di recuperarlo quindi ci tenevo a chiarire questo perché altrimenti il messaggio era incompleto e quindi tutto quello che è incompleto può essere travisato e io invece desidero che l'argomento di ieri completato con questo di oggi desidero che arrivi al vostro cuore in modo chiaro senza nessun malinteso perché poi sui malintesi il nemico ci sguazza dentro e gira le cose secondo diciamo così come vuole lui bene grazie dell'attenzione spero di aver fatto una cosa gradita prima di tutto al signore e spero che questa riflessione abbia portato un po di luce su questo argomento molto molto delicato un abbraccio a tutti e sia lode al signore